Giuseppe era un bambino, un bambino come tanti altri, con una grande passione per i cavalli. Era un bambino innocente, senza colpe. Era figlio di un uomo che scelse di cambiare vita, Santino di Matteo, ex mafioso e poi collaboratore di giustizia. Santino di Matteo era affidiato a Cosa Nostra e il 4 giugno del 1993 fu arrestato. Inizia così a raccontare ciò che accadde negli attentati di Capaci e Via D'Amelio. Brusca Giovanni, all'epoca la di tante boss di San Giuseppe Agliato, decise di fargliela pagare, rapinando il bambino. E così fecero. Lo adescarono fuori dal maneggio, che era solito frequentare, dicendogli che gli avrebbero fatto rivedere il padre che da tempo non vedeva, poiché è sotto protezione. Uno dei rapinatori afferma che il bambino si commosse nel sentire la parola papà. Tempo dopo venne ricapitato al nonno di Giuseppe un messaggio intimidatorio. Santino di Matteo non ritirò le accuse, anzi continuò a parlare. Sì che l'11 gennaio 1996 Matteo Messina Denaro ordinò di compiere l'omicidio di Giuseppe di Matteo, strangolato e sciolto nell'acido. Dopo 25 mesi di prigionia. Quello che vi sto per leggere è il racconto di quell'omicidio. Io ho detto al bambino di mettersi in un angolo, cioè vicino al letto, quasi ai piedi del letto, con le braccia alzate e con la faccia al muro. Allora il bambino, per come io ho detto, si è messo faccia al muro. Io ci sono andato da dietro e ci ho messo la corda al collo. Tirandolo con uno sbalzo forte, me lo sono tirato indietro e l'ho appoggiato a terra. Enzo Brusca si è messo sopra le braccia inchiodandolo in questa maniera. E Monticciolo si è messo sulle gambe il bambino per evitare che si muoveva. Nel momento dell'aggressione che io ho buttato il bambino, Monticciolo si stava già avviando per tenere le gambe. Gli dice, mi dispiace, è rivolto al bambino. Ma tuo padre ha fatto il cornuto. Il bambino non ha capito niente, perché non se l'aspettava, non si aspettava niente. E poi il bambino ormai non era, come voglio dire, non aveva la reazione di un bambino. Sembrava molle. Anche se non ci mancava da mangiare, non ci mancava niente, ma sicuramente la mancanza di libertà. Il bambino, diciamo, era molto molle, era tenero, sembrava quasi fatto di burro. Cioè questo, il bambino, penso, non ha capito niente. Te sto morendo, dice. Penso non l'abbia neanche capito. Io ho spogliato il bambino. E il bambino era urinato e si era fatto anche addosso dalla paura di quello che abbia potuto capire. O è un fatto naturale, perché è gonfiato il bambino. Abbiamo versato dell'acido nel fusto e abbiamo preso il bambino. Io ho preso il bambino. Io l'ho preso per i piedi e Monticciolo e Brusca l'hanno preso per un braccio l'uno. Così l'abbiamo messo nell'acido e ce ne siamo andati sopra. Sono andata a vedere lì ed il bambino c'era solo un pezzo di gamba e una parte della schiena. Io ho cercato di mescolare e ho visto che c'era solo un pezzo di gamba. Però era un attimo, perché sono andato, uscito, perché lì dentro la puzza dell'acido era... Si soffocava lì dentro. Poi siamo andati tutti a dormire. Vincenzo Chiodo, nell'udienza del 28 luglio 1998. ому 38 luglio 1998. Grazie a tutti.